Ciao a tutti, oggi facciamo delle mazzancolle in padella con aglio e limone, la maniera più semplice per poterle gustare. Procediamo, in una padella ci mettiamo dell'olio extravergine d'oliva, due o tre spicchi d'aglio, la quale abbiamo tolto l'anima, lasciamo riscaldare un pochettino l'olio e l'aglio e poi verseremo le mazzancolle. Ecco, l'aglio si sta riscaldando e adesso ci buttiamo i nostri gamberi. Un pizzico di sale, rubiamo col vino bianco. La copriamo per qualche minuto. Altra controllata, hanno cambiato colore, signori questi qua sono pronti. Spegniamo. Vediamo del limone, succo di limone. Ecco qua il piatto finito, andiamo ad assaggiarlo. Prendiamo il calapace. Vabbè, stravanato.